Elezioni a Pesaro dall'Assemblea PD, il semaforo verde alla campagna elettorale Matteo Ricci e i suoi dieci anni da sindaco Evacuato all'ospedale di Pergola per un cortocircuito, pazienti trasferiti ad Urbino Martedì di grande ciclismo con la prima volta della Coppibartali WL non adatta ai deboli di cuore, battuta la Virtus all'Overtime Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione di Rossini News Il nostro telegiornale delle Canale 80 che in questa edizione di lunedì 18 marzo Apriamo con la politica con vista sulle elezioni a Pesaro Ancora a poche ore infatti potrà partire la campagna elettorale per la scelta del candidato a sindaco di Pesaro Visto che questa sera è prevista l'Assemblea Comunale del Partito Democratico per esprimersi sulla proposta unitaria di Andrea Biancani come candidato del centro-sinistra Venerdì c'è stato infatti l'annuncio sull'onda delle consultazioni che avevano già visto prevalere Biancani come candidato del gradimento maggioritario attorno al movimento di centro-sinistra con 48 preferenze fra gli 80 membri del Comitato Comunale Questa sera l'Assemblea salvo sorprese ratificherà definitivamente la candidatura E intanto sabato sera c'è stato invece l'incontro dedicato ai dieci anni da sindaco di Pesaro di Matteo Ricci che ha contrassegnato un ideale passaggio di consegna alla città verso Biancani Voto alle elezioni permettendo Ho amato la città senza raccontare favole E quella che ho raccontato non è una favola Ma è stata una grande avventura Una grande avventura che abbiamo vissuto insieme Ed è per questo che voglio ringraziare voi e la città di Pesaro Continuerò a servirla fino all'ultimo giorno E continuerò ad amarla ancora una volta un gran bel po' per sempre Grazie davvero a tutti Un lungo applauso ad avvolgere una dichiarazione d'amore alla propria terra Per chiudere un'intensa ora all'hotel Charlie In cui Matteo Ricci ha passato in rassegna tutti i suoi dieci anni da sindaco di Pesaro Affiancato dalla sua giunta, dalla maggioranza in consiglio comunale E dai tanti che ne hanno affiancato un decennio di percorso amministrativo Ricci ha scandagliato, divulgato e ribadito ogni tema realizzato in una città Fra ciò che non c'era e ciò che ora c'è Il tutto infiochettato dal titolo non c'era una volta A voler sottolineare come in dieci anni non si siano raccontate favole Abbiamo provato a raccontare una parte almeno Delle tante cose che dieci anni fa non c'erano e che oggi ci sono Abbiamo raccontato anche la grande eredità politica E di finanziamenti che lasciamo a chi verrà dopo di noi Sono stati dieci anni straordinari Ancora avremo tre mesi davanti Quindi fino all'ultimo continuerò a servire alla mia città Come ho fatto in questi dieci anni straordinari E sicuramente continuerò ad amarla un bel po' Come l'ho amata in questi anni E questo è un amore che continuerà per sempre Un racconto corale rimbalzato da uno snodo all'altro Dal cambio di percezione di una cosiddetta Pesaro nazionale Alla capitale della cultura Dall'attrattività cittadina All'impegno sui servizi sociali ed educativi Fino ai due miliardi di investimenti In opere pubbliche realizzate, in corso e finanziate Esposte attraverso il salvadanaio della Pesaro che cambia Il tutto senza mai nascondere le difficoltà Dalla pandemia all'incendio sul San Bartolo Dal caso Riceci ad un continuo braccio di ferro Con la politica regionale e nazionale Politica che ha obbligato ad una citazione Per l'investitura di Andrea Biancani A suo successore Sul quale Ricci ha previsto un lavoro ancora migliore del proprio Noi siamo una grande squadra Lo siamo sempre stati L'abbiamo dimostrato anche in questo passaggio È stata bellissima l'ovazione che ha avuto Vimini dalla platea Per il grande lavoro che ha fatto sulla cultura E che continuerà a fare E abbiamo scelto Andrea Perché Andrea è una figura non solo Un amministratore non solo molto popolare Ma anche molto concreto e molto operativo Abbiamo una montare di finanziamenti da mettere a terra E secondo me con la sua capacità Riusciremo a far fare la città Un passo avanti ulteriori E sono convinto che la squadra che verrà Farà ancora meglio di quello che abbiamo fatto La narrazione dell'Hotel Charlie di fatto chiude un'era politica per Pesaro Ora Ricci avrà poco meno di tre mesi da sindaco E un futuro a breve termine che guarda le europee Adesso ci sono tre mesi da lavorare fino a giugno Per portare a termine tante cose Il 6 di aprile inaugureremo l'Interquartieri di Muraglia Che dedicheremo ad Enrico Berlinguer E poi tante altre inaugurazioni E poi ci saranno anche le altre partite nazionali Come sapete ho già dato da mesi la disponibilità a candidarmi alle europee Dipenderà dalla segretaria del PD Se riterrà la mia candidatura utile oppure no Lo vedremo nelle prossime settimane E se il centro-sinistra di Pesaro ha scelto Biancani Il centro-sinistra di Fano ha invece scelto la strada delle elezioni primare Con quattro assessore uscenti in lizza per la candidatura a sindaco Fra Etienne Lucarelli, Corrafattori, Samuele Mascherin e Cristian Fanesi Ascoltiamo proprio i programmi di quest'ultimo È una visione coraggiosa lo slogan che accompagna Cristian Fanesi Al percorso verso le elezioni primarie del centro-sinistra Per scegliere il candidato sindaco della terza città delle Marche Un percorso che prima del 7 aprile lo vedrà rivaleggiare con gli altri tre assessori Etienne Lucarelli, Corrafattori e Samuele Mascherin Visione coraggiosa che Fanesi ha presentato al Botanic di Fano Una visione coraggiosa per questa città non vuol dire sognare Vuol dire intraprendere strade nuove e concrete Che ci possono portare ad emergere E soprattutto a diventare punto di riferimento delle due vallate Del Cesano e del Metauro Perché è ora di ricontinuare a pensare a politiche sovracomunali e sovraterritoriali Fano quindi deve essere punto di riferimento di questo territorio E questo tema ovviamente è sempre molto più importante Soprattutto per il fatto, e lo sappiamo tutti, che Fano non essendo capoluogo di provincia Deve sempre avere un territorio forte, un sostegno forte Per dimostrare di essere la terza città delle Marche Sanità, urbanistica, infrastrutture, lavoro, vertici della piramide dei programmi elettorali di Fanesi Progressivamente la regione ci ha tolto la possibilità di avere nell'ospedale di Fano Specialistiche di secondo livello E quindi questo sta portando ad un impoverimento delle professionalità Non siamo più attrattivi e il sindaco deve sbattere i pugni sul tavolo Perché questo corso della storia possa essere cambiato Ma ci sono anche temi molto importanti dal punto di vista urbanistico L'arretramento della ferrovia per me è un tema fondamentale Pensate come potrà essere Fano se la ferrovia adriatica potrà essere arretrata Al di là della zona industriale di Bellocchi E quindi quello che potrà essere anche dal punto di vista del turismo Per le imprese balneari, ma per tanti cittadini che abitano intorno alla ferrovia Che potrà essere riutilizzata come trasporto collettivo Ma anche come greenway per poter abbellire la nostra città e favorire gli investimenti Ma un tema molto importante è il lavoro Il lavoro come elemento distintivo di questa città Lavoro e sostegno di imprese saranno sempre al centro dei miei pensieri Un programma che guarda con fiducia all'appuntamento del 7 aprile La scelta di venire a votare il 7 aprile e sostenere la mia candidatura È un'ipoteca sul futuro della città Le primarie sono una grande manifestazione di democrazia È importante partecipare, è importante sostenere il candidato più giusto E quindi invito davvero tutti a darmi una mano Perché di questo bisogno e del sostegno di tutti Ci farà vincere anche le elezioni politiche del prossimo giugno Lasciamo la politica e passiamo alla cronaca Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un corto circuito All'impianto elettrico dell'ospedale di Pergola Che ha indotto l'azienda sanitaria territoriale ad evacuare tutti e 32 i pazienti ricoverati Trasferendoli all'ospedale di Urbino Un trasferimento con operazioni di sgombero della struttura Cominciate dalle 23 fino alle 4 di notte di domenica Trasferimento volta a garantire la continuità assistenziale dei pazienti in degenza Oggi la situazione è tornata alla normalità E da mercoledì le attività di degenza e ricovero programmato riprenderanno regolarmente E torniamo a parlare del caso del progetto della discarica di riceci Dopo le audizioni a Roma della Commissione parlamentare Ecomafie La stessa commissione d'inchiesta sarà domattina nella nostra provincia Per monitorare lo stato delle discariche con sopralluoghi Prima quella a Fanesi di Monte Schiantello Poi quella di Caspreta a Tavuglia Di Caluccio a Durbino E naturalmente del sito di Riceci Ripristinare un lago svuotato da quasi 40 anni E questo l'obiettivo che si è dato il comune di terre roveresche Sostenuto da un importante investimento della regione Marche Obiettivo ripristinare un bacino idrico svuotato da quasi 40 anni Correva l'anno 1985 quando il lago di Barchi Allora denominato lago Bergamo Veniva svuotato rendendo inutilizzata da allora Un'ampia area dell'attuale comune di terre roveresche Ora quel lago sta per rinascere La regione Marche decide infatti di investire 300.000 euro Per contribuire ad un'operazione funzionale per diverse ragioni Oggi finalmente grazie all'aiuto della regione Marche Che ha stanziato un contributo di 300.000 euro Possiamo ripristinare queste infrastrutture Che oltre ad essere un importante volano turistico Perché questo era nel passato Potrà avere anche una importanza dal punto di vista agricolo Perché chiaramente diventa una riserva d'acqua Perché stiamo parlando di un lago che ha uno specchio di oltre 4 ettari E quindi un lago importante Un lago alimentato da un piccolo torrente Che si chiama Bergamo Ecco perché il nome del passato è del lago Bergamo E inoltre perché più se ne parla sempre E soprattutto abbiamo questo problema Che ogni anno aumenta come impatto E soprattutto come eventi che accadono nella nostra provincia E regione Marche chiaramente Può diventare anche un invaso Come lotta per quelli che sono gli incendi boschivi Noi come Genio Civile l'abbiamo autorizzata E non solo l'abbiamo autorizzata Ho anche voluto dare un contributo come regione Marche Di 300.000 euro Perché comunque saranno dei costi abbastanza alti Ripristinarlo Con diverse motivazioni E le motivazioni ovviamente sono Con queste crisi idriche sempre più repentine Lo vediamo purtroppo anche in questo momento I nostri fossi sono asciutti I laghi stanno calando I fiumi c'è sempre meno acqua Avere una riserva d'acqua di 4 ettari di ampiezza Per 5-6 metri di profondità Vuol dire tanti metri cubi Che possono andare a favore dell'agricoltura Possono andare a favore anche ad esempio Della protezione civile Perché in caso di incendi L'elicottero che noi abbiamo come protezione civile Invece di andare fino al mare a prendere acqua Può benissimo prenderla in un lago dell'entroterra E essere molto più vicino magari a luoghi Dove si sono sviluppati degli incendi Delle situazioni di questo genere Quindi un po' legato alla sicurezza Un po' legato all'approvvigionamento idrico Ma anche legato al ripristolo ambientale Perché comunque avere un lago di queste dimensioni In un luogo come questo Credo che sia a questo punto uno dei laghi più grossi Che esistano nella nostra provincia Nella provincia di Peso Rubino I lavori partiranno in estate Con la prospettiva di arrivare a conclusione A fine 2026 A luglio, dopo la fine di luglio Perché chiaramente certi tipi di operazioni Vanno fatti in alcuni periodi dell'anno Inizierà la prima parte Quindi quello che possiamo chiamare Disboscamento Poi a seguito di quello Partirà poi la pulitura dell'invaso Perché l'invaso è visibile E poi il ripristino della diga Ripristino di tutte quelle che sono le opere accessorie Come gli sfioratori e i canali E quindi poi Nell'arco di un anno e mezzo Dovremmo riuscire a terminare tutti i lavori E torniamo sulle notizie di Pesaro Focalizzandoci sul parco Miralfiore Che nei giorni scorsi è stato oggetto Di una segnalazione di vandalismi Ai quali il comune ha già posto rimedio Era appena stato riparato Poi di nuovo vandalizzato E ora nuovamente ripristinato Dopo la richiesta d'attenzione A Rossini TV di telespettatori Che appena dieci giorni fa Segnalavano un nuovo danneggiamento Allo steccato che separa il parco Miralfiore Dal passaggio ciclopedonale di via Solferino È già arrivato un nuovo intervento del comune A riparare il perimetro Su quel tratto di via Solferino Siamo intervenuti più di una volta Continuano dei piccoli danneggiamenti Che cerchiamo insomma di gestire e di contenere Quello che ci preme sottolineare Che su via Solferino abbiamo fatto Un grande lavoro di potatura degli alberi Qualche mese fa Per evitare problemi Per chi transitava sulla ciclabile A proposito del primo tratto di via Solferino All'inizio dell'ingresso del parco Diciamo dove c'è l'arco Stiamo valutando l'ipotesi Di realizzare un altro sgambatoio Oltre a quello interno Così ci permette di avere ancora Ancora più vita In questi 23 ettari di verde Nel cuore della città Sta andando avanti Devo dire tutto bene Secondo i programmi Perché c'è una grande collaborazione Tra tutte le forze dell'ordine Dalla polizia locale La costura I carabinieri La guardia di finanza E la prefettura Questo ci ha permesso appunto Di rilanciare completamente il parco E' importante il lavoro Che si sta facendo Con il progetto Utopia Progetti che continuano Con le visite guidate periodiche All'ara dei laghetti E che con l'arrivo della primavera Vedono inserire lo stesso parco Nelle location degli eventi Di Pesero capitale della cultura Partiremo il 22, 23, 24 marzo Con l'evento che lo chiamiamo Delle luciole Sarà uno spettacolo di luci e colori Che si svilupperà nella notte Al parco Miralfiore Tutte iniziative che ci danno una spinta Per continuare il percorso Che abbiamo intrapreso Ed ora vi segnaliamo alcuni appuntamenti culturali A cominciare da Those Revolution Years Il concerto spettacolo Nato da un'idea di Rocco Bratta E Sergio Guerra Con testi e regia di Claudio Salvi Che in programma domani Martedì 19 marzo Alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesero E racconterà il ruolo della musica Negli anni 70 Dall'Inghilterra all'Italia Dallo Sperimentale al Teatro Rossini Da giovedì 21 a domenica 24 marzo La stagione capitale di Pesero Capitale italiana della cultura 2024 Promossa da Amat Porterà sul palco Tre donne alte Per la regia di Ferdinando Bruni Che affida tre magnifici personaggi Delle test del primo Pulitzer Edward Albi Alla sensibilità di Damarinelli Sara Borsarelli Denise Brambillasca E Stefan Aban Dal teatro alla musica Si è chiuso ieri La prima edizione Del concorso lirico internazionale Gigli Corelli Con un concerto conclusivo dei vincitori Nella cornice del Teatro Rossini Si sono esibiti al fianco della Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana I cinque premiati della competizione Ovvero il mezzo soprano georgiana E Caterine Buacizze Classificatasi prima I secondi posto ex equo Del basso baritono americano Christian Purcell E del soprano coreano Yerang Park I terzi posti ex equo Del soprano spagnolo Mar Moran E del tenore coreano Yoon Seo Park Una prima edizione Che ha visto convergere a Pesero 160 candidati Provenienti da tutto il mondo Lasciamo la cultura E passiamo allo sport Quello di domani Sarà un martedì Di grande ciclismo internazionale Con la prima volta A Pesero Della gara Coppi-Bartali Un grande evento sportivo Che condizionerà anche La viabilità dei comuni Di Pesero Vallefoglia Gabiccia ed Urbino Il grande ciclismo internazionale Arriva sulle strade Della provincia di Pesero-Urbino Martedì 19 marzo Pesero ospita per la prima volta La gara ciclistica Coppi-Bartali La corsa organizzata dal gruppo sportivo Emilia Sceglie infatti la capitale della cultura Come partenza e arrivo Della prima tappa Della settimana internazionale Coppi-Bartali Che si chiuderà il 24 marzo a Forlì Siamo orgogliosi di ospitare Questa grande manifestazione internazionale Che dopo 26 anni Arriva nelle Marche Ringrazio la regione Marche Perché ci ha supportato E quindi Pesero è protagonista E' protagonista con la Coppi-Bartali Nell'anno di Pesero capitale italiana della cultura Quest'anno la Coppi-Bartali Sarà la 26esima edizione Perciam abbiamo un albo d'oro eccellente A partire da Cadelevans Da Scarponi Da Weinstras Campioni del mondo Tanti corridori Quest'anno la 26esima edizione Per la prima volta Sono ospite Nella bellissima città di Pesero Con la prima giornata di gara Che si terrà Martedì 19 marzo La corsa partirà martedì Alle 13.50 Da Piazza del Popolo I ciclisti transiteranno su Via Branca Per raggiungere la partenza ufficiale Della tappa Prevista per le 14.10 Sulla Monte Labattese All'altezza di Villa Fasticci La gara si dirigerà Verso chiusa di Ginestreto Monte Labate Montecchio Borgo Massano Pantiere Urbino I Monti delle Cesane Gallo di Petriano Montecchio Tavuglia Gradara Gabicce Mare Gabicce Monte La strada panoramica del San Bartolo Con arrivo finale A Pesero In Viale Trieste Previsto indicativamente Per le ore 17 Un percorso che vedrà Necessarie modifiche Alla viabilità A partire da 15 minuti Prima del transito Dei corridori Nelle vie interessate La carovana ciclistica Di respiro internazionale Avrà come portacolori Marchigiani Giulio Pellizzari E Giovanni Carboni Sono 21 squadre Rappresentante di 7 Atleti Ogni squadra 147 corridori In rappresentanza Di 23-24 nazioni Avremo anche alla partenza Sicuramente Giulio Pellizzari Che è un corridore Marchigiano Di cui sentiremo parlare Credo che farà questa gara Anche in preparazione Avvicinarsi al Giro d'Italia Dove parteciperà E per la prima volta Avremo ospite L'ho contattata Gioia Bartali Che è la nipote di Gino Bartali E verrà alla prima tappa In occasione Di questo evento Perché lei non ha mai partecipato Ma essendo qui nelle Marche Ritiene opportuno portare Questo ricordo del padre Che è uno dei due protagonisti Del nome della gara E da questo evento ciclistico Passiamo alle altre notizie Di sport del weekend Appena trascorso A cominciare Dalla galvanizzante vittoria Della Vuel Sulla Virtus Bologna Dopo lo scalpo di Brescia Anche quello Della Virtus Bologna In un overtime Non adatto Ai deboli di cuore La Vuel esulta 87-86 Infilando la settima vittoria Della sua stagione Costruita con cuore Coraggio ed orgoglio È un tiro libro Di Cincarini A tempo pressoché scaduto A liberare l'abbraccio Dei 7500 tifosi Della Vitrifrigo Arena Al termine di un match Tiratissimo In cui Pesaro È sempre di inseguire Bologna Ma senza mai Prestare il fianco Ad una fuga delle Vunere Una guerra di nervi Che si chiude Sul 72-72 Prima di un overtime In cui Pesaro Deve rimandare il successo Per un fallo Sulla tripla di Bellinelli Al quale l'ex NBA Risponde con un 3-3 Dalla lunetta Ma la prospettiva Di un secondo overtime Viene mandata al macero Per un fallo A mezzo secondo Dalla Sirena Che Cincarini Trasforma nel punto Del sorpasso E di una vittoria Vitale Alla luce Dei concomitanti successi In coda Di Treviso E di Brindisi Dalla Serie A Alla Serie B Continua anche L'esaltante fase Play-in gold Dell'Ital Service Soloretto Pesaro Che vince la terza gara Consecutiva Imponendosi in trasferta Con un dilagante 101-61 Sul campo Del Palestrina Nel calcio Invece si fa Sempre più complicata La classifica Della Vis Pesaro Che nel posticipo Del Benelli Cede con onore Alla capolista Cesena Sempre più cannibale Di un campionato Che ora domina Con 11 punti Di vantaggio Sulla seconda La Vis Studia il piano Tattico adeguato Per limitare il cavalluccio Che però passa Dopo 17 minuti Colguizzo di Berti I pesaresi rimangono Incollati al match Fino all'ultimo secondo Contrassegnato Dal 2-0 Di Ogunseie Al 95 In mezzo Le ricriminazioni Vissine Per un rigore Non concesso Su Pucciarelli Vis Che a 6 partite Dalla bandiera a scacchi Si ritrova ora Quart'ultima In classifica Nel weekend oro Del rugby azzurro Che c'entra il suo migliore Risultato Al 6 nazioni Scrivono una bella pagina Della pallovale pesarese Anche i kiwi giallorossi Che al Tecno Rugby Park Di Muraglia Abbattono 27-24 Viadana Con una rimonta Incredibile Dal 19-0 Con cui erano andati In vantaggio I Caimani Nel primo tempo Chiuso poi Sul 19-3 Per gli ospiti Dopo l'intervallo Viadana Allunga il 24-3 Ma poi è solo Pesaro Che vince Grazie alle mete Di Larry Chart Tontini Franco E alla precisione Al calcio Di Giubert Che porta 4 preziosissimi Punti In classifica Nel calcio a 5 L'Ital Service Consegna la sosta Del campionato Sull'onda Di tre vittorie Consecutive Che consolidano Off Il 3 di successo È arrivato venerdì Sera al Palamegabox Con il 4-3 Su una Pierossigeno Cosenza Maidoma Che rimonta Due volte I tentativi Di fuga Dei Biancorossi Che gioiscono Trascinati dal capitano Felipe Tony Dandel Autore di una tripletta E dalla rete di Barrichello Che completa Il raggiungimento Di tre punti d'oro Ora l'Ital Service Può ricaricare le pile In vista di un campionato Che riprenderà Il 30 marzo A Mantova Nella pallavolo La Megabox Vallefoglia Subisce una dura sconfitta Sul campo Di Casal Maggiore Dopo un'ottima partenza La squadra bianco-verde Si è sciolta improvvisamente A metà del secondo set E da quel momento in poi Le padrone di casa Hanno dominato Il lungo e il largo Senza lasciare spazio Alle ragazze di pistola Alle Tigri Servivano due set Per guadagnare La qualificazione playoff Ma dopo il primo Vinto 25-21 Le padrone di casa Si sono imposte Con autorevolezza 25-19 25-12 E 25-16 E si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Come ogni lunedì Subito dopo il Natiziario C'è la Natura della Cultura Magazine Il nostro format Che vi propone Piccole strisce Di approfondimento In merito Ai temi Della capitale Della cultura Striscia che va in onda In queste tre giornate Quelle di lunedì Mercoledì E venerdì Nelle fasce orarie Delle 8 Delle 13 E delle 20 Il sabato E la domenica Il riassunto Delle tre puntate Settimanali Sabato alle 12 Alle 19 Domenica alle 15 E alle 21 E poi lunedì sera Anche la serata Di CECAP Obiettivo Salute Il nostro programma Condotto In Realizzato In collaborazione Con Fisioradi Medical Center Ospite Del nostro Antonio Astuti Sarà questa sera Il fisioterapista Andrea Valentini Che ci parlerà Del tema Dell'infodrenaggio Come detto Appuntamento Alle 21 E 20 E poi la nostra Esclusiva di sport Quella delle partite Della Fiorini Pesaro Rugby Questa sera Alle 22 La partita Andata in scena Ieri Al Tecnobo Rugby Park Di Muraglia E quella appunto Tra Pesaro E il rugby Viadana Appuntamento Come detto Alle 22 E poi vi ricordo Come sempre L'appuntamento Del mattino Con l'informazione Di Rossini TV Quella di Buongiorno Rossini Appuntamento Con i quotidiani Locali E la loro lettura E consultazione Come sempre In diretta A partire Dalle 7 E 20 E aspettando Buongiorno Rossini Si conclude qui Questa edizione Dello spazio informativo Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi E vi auguro E vi auguro E vi auguro